Benvenuti, cari follower. Questa è la data per il ritorno del caldo, del tempo stabile e dell'inizio della stagione estiva in Italia. Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticate e supportateci con ammirazione per questo video e condividete con tutti per diffondere il beneficio. Grazie, se secondo gli ultimi dati a nostra disposizione, e dopo la nostra analisi delle ultime uscite dei due modelli numerici europei anche gli americani, dobbiamo aspettare fino alla seconda metà di giugno 2023, in particolare dopo il 18 giugno. È probabile che ci siano possibilità di un forte ritorno dell'alta pressione africana, e quindi nei prossimi giorni il tempo piovoso continuerà nel pomeriggio con temperature a tratti moderate e rinfrescanti, e quindi ci sono niente ondate il caldo nei prossimi giorni, e questa volta l'estate entrerà tardi, come vi abbiamo assicurato due mesi fa, e quindi, per i prossimi 15 giorni, continueranno i temporali e il tempo primaverile, e come ho detto, bisognerà aspettare dopo il 18 giugno perché le correnti calde provenienti dall'Africa comincino ad interessarci, in concomitanza con l'ingresso di una massa d'aria molto calda proveniente dall'Africa nelle regioni del bacino occidentale del Mediterraneo, e ricordiamo sempre che queste le aspettative sono ancora preliminari e soggette a modifiche in meglio o viceversa, perché il periodo è ancora relativamente lontano, e ogni altra importante novità di cui vi informeremo in seguito.